La Suprema Corte di Cassazione rende definitive le condanne a carico di 5 persone arrestate nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, denominata Caolonia, condotta dai Carabinieri delle Rosse. L'attività investigativa, le cui misure cautelari furono eseguite il 19 marzo 2019, avrebbe ricostruito l'assetto mafioso di Pietra Persia, località in provincia di Enna, fra i condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione di Dio Antonino, classe 1954 di Villa Rosa, ha una pena di nove anni e quattro mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso ed estorsione. Poi di Calogero Salvatore Giuseppe, classe 1975 di Pietra Persia, pena di otto anni e otto mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e furto. I Carabinieri di Enna hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione anche a carico di Di Natale Gianfilippo, classe 1996 di Pietra Persia, condannato a nove anni per furto, rapina, porto e detenzione di armi. Di Calogero Filippo Giuseppe, classe 1979 di Pietra Persia, condannato a quattro anni per rapina, porto e detenzione di armi. Di Natale Gianfilippo, classe 1996 di Pietra Persia, condannato a nove anni di reclusione per furto, rapina, porto e detenzione di armi. E Russo Simone, classe 1993 di Pietra Persia, condannato a cinque anni di reclusione per rapina e ricettazione.